Ciao a tutti, come ho scritto nel titolo del video ci siamo quasi perchè ho terminato buona parte del mio bracciale per buona parte si intende che mi manca questo pezzettino allora ve lo mostro un po' da vicino con i soliti colori alzati vedete? mi piace molto, non vedo l'ora di terminarlo e di montarlo sulla base e soprattutto non vedo l'ora di utilizzare i materiali appositi quindi al posto del panno lenzio utilizzare la finta scantara e anche insomma il resistive stuff ho trovato oltretutto un altro sito che vende alcuni materiali per l'embroderi tra cui per fortuna anche le basi diciamo per i bracciali, insomma le basi in alluminio per montare il bracciale il nome, se non mi sbaglio il nome del sito è happyland.snc e appunto c'è non solo ci sono non solo le basi per i bracciali ma anche per esempio la colla per i cabochon appunto il resistive stuff l'ultra suede che sarebbe appunto un altro tipo di tessuto utilizzato per questa tecnica insomma ci sono alcune cose quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata niente ci sentiamo appena il lavoro è tutto terminato vi prometto che la prossima volta che ve lo mostro sarà completo già montato sulla base e poi faremo i vari tutorial su come infilare diversi tipi di perline sul panolence in questo caso o sull'assistive stuff un bacio a tutti ciao ciao